Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Minecraftita quarta stagione Di nuovo consecutivo voglio stringere parecchio perché non vedo l'ora di fare il world tour di questa mappa Siamo al 46esimo episodio, al 50esimo, come di routine faremo il nostro world tour In tutti i casi eccoci qua, abbiamo un... sfrecciamo quel bestialato in fondo, eccolo qua sfrecciata bestia Ehm... cosa andiamo a fare oggi? Beh oggi dobbiamo andare a fare un collegamento interessante per quanto riguarda... hop, il... eh questo è il magazzino Perché cazzo è fottutamente scollegato, dobbiamo uscire dalla safe zone e rientrare, cosa che a noi sta decisamente scomoda E quindi andremo a fare dei miglioramenti, degli improvement Dovrei avere... ecco qua infatti ho dei nether brick a bestia Sì ce ne sono... no, non ce ne sono, ce ne sono pochi Ma va bene così perché fai così... cazzo io non mi ricordo come si fanno le fence Ho paura, vabbè ok facciamo questi, poi si faccio tipo così, così e così Sì, giusto, onesto, onesto, sei stato onesto stavolta Mi piace, mi piace, mi piace, mi è onesto così Fai così, così e ne mettiamo a fare... ok, una trentina van più che bene, trenta perché dobbiamo fare una roba del genere Beh penso che prima di tutto potremo scavare questi così qua Ok sì, non c'è il vuoto quindi li possiamo scavare e possiamo... no no no, eh cazzo Oddio che colpo Cazzo, vabbè ok, non dovrei morire male Ti facciamo una cosa? Ecco per evitare di rovinare anche l'armatura Oh io non ho più cibo, dobbiamo andarla a prendere alla farm Vabbè che la possiamo tranquillamente... prendere alla farm non è un problema però Dobbiamo stare attenti quando facciamo queste cose Tac, 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 così e lo vai a congiungere di qua Va bene? Devi questo, ci metti questo e lo congiungi Ah no che bello perché sotto c'era il ponticello, si passava, cazzo no mi sono scordato Vabbè ok, lo ricreiamo un attimo così Perfetto, almeno la lava passa, è più figo se passa la lava, cioè da un... fa serio, fa molto figo Va bene, questo lo riscaviamo di nuovo così Fotte sega se perdo materiali non mi interessa particolarmente Per perdere terra, non è un problema così... grave Mettiamo questa roba qua Questo qui e questo... ah questo lo attacchiamo qua così Eh peccato che qua... avremo un ingresso alla save zone Cazzo non devo perderlo quello Bama, così E sotto, qua sotto ci dobbiamo mettere se riesco Non penso di riuscirci da qua Riusciamoci da qui però da di qua Hop E vai a metterle uno sotto lì Perfect, perfect, perfect Va bene, ok L'ingresso più o meno l'abbiamo fatto Ora c'è la parte safe Tra virgolette Ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andarci a scavare la salita Sì esatto, proprio il fatto quando sale Se noi scaviamo in questa direzione qui ci dovrebbe essere lava Perfetto, quindi se qui c'è la lava Noi possiamo passare sotto E se qui noi ci mettiamo del vetro Passeremo direttamente sotto la lava Il che potrebbe essere figo da vedere Beh certo, è sicuramente figo da vedere Ci serve del vetro Abbiamo del vetro Oh, ho detto la cesta sbagliata Sì, ho 11 pezzi di vetro Possiamo colorarli Con cosa li coloriamo? Vediamo se abbiamo a disposizione del rosso Sì, ho a disposizione del rosso Quindi sarà la colorazione rossa Che ci serve anche per i... per i cosi Per gli archi X Hop, 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 ok, perfetto Questo colorazione rossa eseguita Da qui si scende E andiamoci a mettere Qui Tac E qui La nostra fantastica Vabbè, gaia, è bello, è bello Figo, è figo, mi piace un sacco così Bene, qua finisce E dovremo essere soltanto bravi A fare una roba del genere Perché è brutto vedere terra dietro, no? Oh, 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 oh Attenzione, metti la terra qua Va bene, va bene così Va bene così Lo dovremo fare dall'altra parte Ora, invece di fare tante chiacchiere e tutto il resto Vediamo di scendere dall'altra parte Ho finito tutti i vari materiali Oh, ho droppato anche la spada E l'unica cosa Devo illuminare un attimo velocemente questa parte qua Ho fatto tutto scavato E questo è il risultato Qui ce l'ha là Ah, cazzo, devo togliere questo qua Non mi era accorto Ci fosse anche quello E qua si arriva il magazzino Perfetto, direi Nulla di particolare Devo soltanto rifinirlo Adesso dobbiamo andare a prendere da mangiare per forza Perché sennò qua è un casino Qui possono entrare ancora mob Vabbè, però fotte sega Abbiamo già risparmiato un sacco di tempo Bella, mi piace tutto il passaggio sotto Collegata a questa roba qua Questa casa è fighissima Questa diventando una rocca forte È allucinante Bella, bella, molto bella È migliorata un sacco Mi serve del cibo? Oh, sì Cibo 26 Pezzi di carne che ci aiuteranno sicuramente molto Nella nostra Ecco qua Nella nostra avventura Ora, mangiato e tutto il resto Cosa dobbiamo andare a fare? Beh, sicuramente rientriamo qua dentro E continuiamo a mettere blocchi Vediamo quanti da stone brick Oh, ok Ho tanti altri stone brick Quindi altri 64 Possiamo completare Penso se non completare Almeno quasi Quasi Completare quasi Ecco, mettiamo a completare quasi il tutto Hop, metti questo qua Il soffitto Il soffitto è un tabù Non ho alcuni idea di come farlo Sicuramente questi però li faremo Questi li faremo in stone brick Perché è bruttissimo vedere roba che non sia di stone brick In tutti i casi volevo anche parlarvi dei miei progetti futuri Tre virgolette Sapete che qualche giorno fa Precisamente l'altro ieri È uscito un video su Clash Royale Un gioco meraviglioso Mi sta piacendo Beh, parecchio Ci sto giocando un po' E devo dire che non è male E la mia idea era appunto di continuare su quella direzione Quindi di portare Alternare un po' Ovviamente Minecraft resterà la serie principale E poi alternare tra Clash Royale e Clash of Clans Magari fatemelo sapere tramite un feedback E gradirei però che la maggior parte di voi almeno ci provassi a guardare Perché partite prevenuti Nel senso la metà di voi soltanto guarda i video su altri giochi rispetto a Minecraft Magari, non lo so, ma provate Datemi fiducia cazzo Provateci No vabbè ok, non lo so Se volete io vi invito a andarli a guardare Mi farebbe molto piacere Quindi se avete voglia I video vi aspettano sul canale Li trovate In tutti i casi qua ci metteremo della terra Cambiando completamente argomento Qua ci mettiamo della terra Sopra non lo so Stone brick Fanculo tutto Metti giù stone brick Tanto stanno bene dappertutto Sopra sarà carino vedere Soltanto della Oh ta 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 Perfetto Qua sarà carino vedere dei grass block E noi abbiamo collegato in maniera discreta Il tutto Il magazzino è collegato a questa parte Poi io sarò sicuramente tentato di fare Tipo una roba del genere Ah ah Ma cazzo no L'ho persa una Ah Errore Errore Vabbè ok potrei fare tranquillamente così E evitare il collegamento C'è uno zombie Che io sfreccio meravigliosamente Muori male Cazzo Resistente Ragazzo Morto Va bene Non lo so Devo valutare se conviene O almeno avere il passaggio segreto Cioè sicuramente il passaggio sotto Conviene averlo per comodità Poi se io voglio utilizzare un'altra strada C'è un mister creeper Morto male Muori male anche tu Bene perfetto Andiamo a raccogliere il ferro 19 pezzi Ce li riprendiamo altri 19 pezzi E va bene ok Il magazzino è comodo averlo lì Sono sicuro di che sia comodo Purtroppo adesso Questo cancelletto Ve l'ho detto Rimane un po' Sfornito Di una sua utilità Dato che abbiamo ancora un po' di tempo Perché abbiamo ovviamente Il coso Il coso sempre coso No Dicevo Il collegamento Ci ha richiesto non troppo tempo Penso che possiamo andare a fare Vedete come muoiono male Perché questo Perché Questo i mob lo vedono come blocco solido Cioè come blocco sempre aperto In cui ci si può passare Però Non è aperto Mi dispiace In tutti i casi Pensavo addirittura adesso A fare un altro collegamento Sempre Per quanto riguarda Questa parte qua Ok Per collegare questo posto qui Nel senso Cazzo si Dobbiamo collegarlo In qualche modo Magari Prolungando Il pozzo di lava Collegando questa parte Farla scendere Collegarla qui Magari Questo lo facciamo arrivare Più avanti Questo lo portiamo Al pari Questo se lo colleghiamo Arriva qui E va più che bene Secondo me è fattibile Beh ci possiamo anche provare subito Perché no Sì andiamo a collegare Anche questo posto qua Perché fare Una save zone più Cioè diventa molto figo L'idea secondo me Che siano Separati no Cioè che siano più blocchi Uniti da una save zone Cioè Sì per me è figo Mi piace mi piace mi piace Adesso arriviamo al magazzino Utilizzando la seconda via Che ho costruito Questa è più Cazzo quant'è più comoda Penso non utilizzerò mai Il passaggio sotterraneo Ma va bene lo stesso Perché tanto Era d'obbligo farlo Oh 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 E carino Come ti permetti Bestiaccia Sono uno stack e passa E volevo prendere anche Ok questi qua Dark oak fence Basta Nient'altro Nulla di più Forza Andiamo a collegare Sto posto Ce la faccio saltare Ah no Qui è un casino Bisogna passare L'altra via Comunque Non che sia Poco sicuro Però Sì non è Non è sicuro al massimo Avete ragione Ma ci si passa sopra Dai Alla fine Va bene Io non sono Io non muoio male Nella lava Praticamente sempre Ogni volta che Provo a fare qualcosa Qui ci mettiamo la cobblestone La stone 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 E qui ci metti sopra questo Di collegamento A quest'altro Vero Non si Cazzo Non si collegano Ok il fatto che non si collegano È un problema enorme Ma proprio enorme a bestia Si collegano però In maniera Da sopra Cioè se io lo metto sopra Questo si collega Aha E allora Se si collega da sopra Noi potremmo fare Una roba del genere Devi questo Ci metti questo Bam Collegato a bestia Collegato a bestia Lo stesso dobbiamo fare di qua Lo stesso dobbiamo fare di qua Per questo coso qui Quindi dammi anche gli stone brick E io collego il tutto Questo lo fai arrivare qua Me lo mandi Hop Riesci a saltare Bravo Lo fai arrivare qui Cazzo però Vabbè lo fai arrivare sopra questo invece Nether brick fence Va bene Ok ci sto lavorando Ci sto pensando Ci sto pensando Questo lo mettiamo In questa maniera Cioè questo lo dovrei togliere Tipo questo 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 E lo togliamo E ci facciamo I collegamenti Quindi qui E qui Qua sotto ci metti Le fence Perfetto E qui poi vai avanti Con sta roba qua Quindi significherebbe Andare avanti Con gli slab Ah qui ho delle crafting table Possiamo farci subito Degli slab 12 slab Vediamo come ci stanno Giusto per provarli Ci basteranno 12 Così così Se non faccio cazzate ci basta No sono pari pari proprio Perfetto E poi sei collegato a questo posto qua Ora questo Magari lo togliamo Lo togliamo anche qui E qui ci vai a fare Ci continui a collegare la lava Beh qui no Non ce la puoi collegare la lava Però sarebbe figo farlo Ehm Sì Sono indeciso su come fare per ora Qui potremmo tranquillamente Mettere stone brick Sono altri collegamenti Che andremo a fare Quindi Stone brick Tutti intorno qua E poi Per quanto riguarda Questa parte di lava Te la fai arrivare Sì però poi ci copre tutto No perché Eh 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 Sì 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 No ok va bene Niente parte di lava Qui sì Qui la fai arrivare La fai scendere sotto Non mi interessa dove Va bene Quindi qui lava sicuramente Dall'altra parte no Adesso faccio le modifiche del caso E vediamo come viene fuori È stata dura ma ce l'abbiamo fatta Questo è il collegamento ultimato Quello che mi è passato un po' per la testa Arrivare qua sopra Il ponte Poi spacchi il ponte Questo si ricrea in maniera Meravigliosa Puoi spaccarlo quanto ti pare Poi lui si continuerà a ricreare sempre Bello bello Mi casa sto ponte Autoricreante Poi è meraviglioso È qualcosa di fantastico Va bene Comunque per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se ne avete già fatto Di condividere il video su facebook Per farmi conoscerlo alle persone E noi siamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi